Nel senso che tutte le persone che conoscono le redazioni dicono sappiamo più come fare questa nuova dirigenza, siamo così cioè persone incompetenti in ruoli dirigenziali che poi ci mettono pure appunto eia eia la la o altra roba diciamo orrenda Corsini l'altra volta appunto l'ho visto sui suoi account scrive appunto la nostalgia delle camicie nere senza i ok questo è il fascismo cioè è la nostalgia sgrammatica quindi diciamo che ed è come dire il responsabile degli approfondimenti della RAI in questo momento io che devo fare cioè devo prendermela con una persona che è un bravo regbista gioca insieme a delle persone che conosco è un bravo regbista ok che sia un responsabile degli approfondimenti la RAI forse non è la figura adatta poi che sia un politico faccia politica in un altro modo eccetera eccetera non è la figura adatta non lo dico io lo dicono i suoi dipendenti allora per me questa cosa è importante è la questione fondamentale ok ci sono delle persone qualificate e le persone non qualificate purtroppo questa destra non è soltanto alle volte arrogante squadrista le querele temerarie sono una cosa brutta brutta